Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Siamo ancora in zona in colore arancione e quindi a Valgrande non può aprire le proprie porte agli ospiti e ai clienti. Però Valgrande entra nelle vostre case e lo fa con le sue preparazioni più classiche come la pasta fresca come i cappellacci, i cappelletti, i bigoli o le fettuccine fresche che potrete avere previa prenotazione. Però Valgrande preparerà per voi anche tutti i piatti, quelli classici dell'offerta dell'agriturismo adatti all'asporto. Il menù cambierà di settimana in settimana secondo la stagionalità o la disponibilità asiendale. Se siete curiosi di conoscere le nostre proposte per questa settimana e per le prossime settimane vi invito a continuare a seguirci attraverso i contatti che troverete tra le pagine del nostro sito o nelle pagine social dove siamo presenti. Vi aspetto numerosi anche attraverso le vostre telefonate. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!